E bentornati ragazzi, io sono Bloodhark, oggi vi farò vedere come completare la Gasmith parte 8 L'arma da modare oggi è il Kanachnikov AKM Partiamo subito, abbiamo bisogno dell'adattatore Silencirco IBD-46 Dove prosegue sempre l'IBD-46 ma il silenziatore Silencirco Poi abbiamo bisogno dell'Handward Polymer AK-100 dove ci monteremo il Forti-Shift Tactical Foregrip Abbiamo bisogno del caricatore da 30, questa serie qui ragazzi, il Magpul P-Mag, generazione M3 Poi del Pistol Grip AK-TAPCO Style, questo qua Poi dobbiamo anche cambiarci il Polymer Stock Il Calcio dietro ragazzi, dobbiamo mettere questo qua, il Polymer Stock, la SP-20 Poi ci monteremo ovviamente dietro il Recoil Pad, la KGP-25 Poi abbiamo bisogno del Combat Mount Adapter for Saig Era montato sul Bastion AK-Accademia, Dust Cover E infine ci sarà il Tricicon ACOG 3,5x35 Scoop Ora, andiamo a montaggio, dobbiamo togliere 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Quindi proseguiamo nel montare l'arma Ed ecco qua ragazzi Questo è l'esito finale Ci è dato l'ok Andiamo dal Meccanico Dove si ciullerà la nostra AKM moddata Ragazzi, lasciate un like Lasciate un follow Mi raccomando Trovate tutto in descrizione E ci vediamo alla prossima Gasmit Ciao guys E ci vediamo alla prossima